chiamare il mio cugino Marco, Marco dove sta? Marco, un applauso a Marco Marco, grazie a Marco, tante cose sono, a parte quello che abbiamo visto ma Marco mi ha aiutato ad andare avanti nella scrittura del libro e soprattutto la cosa più importante è quello che è venuto con il libro che sono stati trovati i mandanti e gli esecutori del delitto di Paolo e sono stati condannati tutti quanti e Marco mi è stato sempre vicino, durante i processi sempre l'unico che mi è sempre sostenuto e mi è stato sempre vicino quindi grazie voglio dire qualcosa? voglio dire un'aziale che poi mi sono fiumentino di farlo prima a Francesco Coppola, la famiglia Coppola che ci ha ospitato e ci ha ospita qui in questo posto eccezionale perché Francesco è una persona che è sicurissima che mi ha chiesto, ha detto sì, devo farlo lì perché insomma si è sentito vicino alla mia storia e qui ve lo ringrazio ringrazio tutti della struttura, grazie sì bravo, bravo io voglio parlare qui con noi Mariella Lisatti che è la produttrice esettiva insieme a D'Amedeo anche per raccogliere un commento a caldo sulla proiezione in anteprima con la Rai abbiamo fatto 20.000 riunioni per fare una sceneggiatura che fosse perfetta ogni volta che vedo il film domani un film asciutto che parlasse, che desse un messaggio positivo cioè noi dobbiamo parlare di delle famiglie per bene non delle famiglie, non per bene e noi vado a parlare di una famiglia per bene che ha avuto dei grandi dolori perché oltre questo c'è stato un altro dolori dopo e che comunque insieme con la fede è riuscita ad andare avanti e comunque ad essere felice perché comunque ho una famiglia felice grazie